25 dicembre auguri e buon Natale a tutti, 25 dicembre 2013. Sereno Natale a tutti. Questa è la parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, Ischia Porto. Auguri a tutti di un buon Natale e felice anno nuovo. Grazie a tutti. Auguri a tutti, buon Natale. Auguri e buon Natale. Buona salute. Auguri e buon Natale. Salve. Questo è il presepe della parrocchia di Santa Maria Portosalvo. Sarebbe la rappresentazione della Natività di Cristo. Non l'ha fatta loro, lo sai, è troppo bella. Bella, eh? Sì, ma devo dire, a Pasqua, a Pasqua, a Pasqua, a Pasqua. Di nuovo auguri e buon Natale a tutti. Grazie. 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 Grazie.